Prosegue l'aperitivo con Artemisia Gentileschi, un viaggio tra i musei sorrentini organizzato dall'associazione Proloco di Sorrento. L'obiettivo è tutelare e promuovere lo sviluppo di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile del territorio valorizzando il patrimonio storico culturale in collaborazione con i musei locali e con il comune di Sorrento. Un percorso coordinato da guide certificate che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei cinque musei ai Sorrentini. E allora ecco il museo multimediale Sorrento Experience che propone un viaggio immersivo alla scoperta della storia del comune di Sorrento come racconta Antonino Panni. L'idea di questa mostra multimediale è stata quella di far conoscere sia i turisti sia i sorrentini la storia di Sorrento in tante piccole storie e lo leggente di artisti che si sviluppa poi nel tempo dal primo secolo avanti Cristo fino ai giorni nostri. Tutta la storia di Sorrento, da Villa Polio Fenice del primo secolo avanti Cristo fino all'irruzione delle Vesude del 44. È un percorso nel tempo dove poi ci sono gli artisti come Quadotasso, Cosima Wagner, Richard Wagner, Dalla, Caruso, tutti gli artisti che hanno fatto parte della nostra cultura. O ancora la Museo Bottega della Tarsia Ligna dove si potrà ammirare la storia dell'intarsio sorrentino dall'Ottocento ai giorni nostri guida d'eccezione il fondatore Alessandro Fiorentino. È un museo dove è custodita la memoria storica degli artigiani sorrentini dall'Ottocento ai giorni nostri e dove accogliamo gli ospiti in visita a Sorrento, gli stranieri soprattutto, interessati ad impossessarsi della nostra cultura e della nostra storia. Tappa nella meraviglia del Museo dei Gozzi Sorrentini dove si trova una vastità di gozzi in progettazione, costruzione e restauro dai rinomati maestri d'Ascia. Le parole di Raffaele Aprea. Il famoso gozzo sorrentino, dalle linee sviluppate prima per barca da pesca, adesso con l'evoluzione è diventata una barca da riporto. Nel frattempo c'è stata l'evoluzione e quindi barca in vetroresina con rifinitura in legno. Però noi abbiamo scelto di rimanere nel storco della tradizione e siamo rimasti nel legno che poi col tempo comunque è stata una scelta vincente, si è rivelata. Ultimo appuntamento il 9 dicembre al Museo Correale di Terranova, Artemisia Gentileschi, allieva di Caravaggio, presentazione e illustrazione dell'opera La Maddalena presentata da Vittorio Sgarbi.